Buonasera ai telespettatori di Rete Sette, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto, sino a domani la linea 11 in direzione Venaria Reale, da Largo Grosseto, è deviata in via Stampini, via Orbetello, via Lanzo, percorso normale. Continuano i lavori cantieri sul raccordo autostradale Torino-Caselle. Vediamo le notizie di domani, giovedì 20 settembre, da domani e sino a lunedì la dodicesima edizione di Terra Madre, Salone del Gusto, non soltanto all'Ingotto Fiere ma anche in altri punti della nostra città. Alle 17.30 l'inaugurazione della nuova palestra McFit in via Lagrange 47. Alle 15.30 Custorino organizza una manifestazione podistica non competitiva denominata Fiaccolata del Sapere. La partenza verrà effettuata dal Rettorato di Via Pop, a seguire per Piazza Castello, Via Accademia delle Scienze, Piazza Castello, Via Pop, Piazza Vittorio Veneto, Munazzi del Pop, Parco del Valentino, Via Le Virgilio, Via Le Mattioli, arrivo alla Corte del Politecnico. Dalle 15.00 alle 19.00 di domani un presidio religioso in Piazza Castello, domani notte come di consueto la chiusura dei sottopassi per operazioni di pulizia meccanizzata, 23.30-1.30, chiuderà il sottopasso Repubblica Porta Palazzo, 2.30-4.30 di venerdì mattino, chiuderà il sottopasso Lanza di Corso Massimo D'Azzeglio. Semafori in manutenzione domani dalle 9.00 alle 17.00 in Corso Re Umberto, angolo corso Matteotti e dalle 9.30 alle 17.30 in Via Cigna, angolo via Valtrato. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio a domani.